Dal 1 aprile stop all'obbligo vaccinale per il personale della scuola. Il messaggio arriva da oltre 2000 lettori della tecnica della scuola che hanno partecipato al sondaggio. 9 su 10 dicono basta all'obbligo vaccinale del personale scolastico e lo stop dovrebbe coincidere con la fine dello stato di emergenza fissato dal governo per il prossimo 31 marzo. Un no all'obbligo che unisce chi il vaccino l'ha fatto fino a oggi a chi si è rivelato inflessibile e ha rinunciato pure allo stipendio pur di evitare la temuta iniezione. Sono gli insegnanti i maggiori rispondenti al sondaggio quasi il 60 per cento. Tra loro i no all'obbligo toccano la punta del 90 per cento a fronte di un 9,7 per cento di sì. Oltre ai docenti un'altra categoria estremamente interessata all'argomento è quella dei genitori le cui risposte al sondaggio rappresentano quasi il 30 per cento del totale e rappresentano anche i più contrari al prolungamento dell'obbligo vaccinale. Tra i genitori infatti si dicono in disaccordo con il provvedimento vigente il 97,4 per cento di coloro che hanno fornito il loro giudizio. Un dato molto vicino a quello degli studenti tra i quali il no all'obbligo vaccinale dei propri docenti toccano il 96,3 per cento. Infine ate e dirigenti scolastici sono accomunati reciprocamente da un 92,2 per cento di no. Le risposte al sondaggio sono giunte in modo equilibrato dal primo e dal secondo ciclo di scuola. Il primo ciclo infatti risponde con un 45,3 per cento di clic al sondaggio. Le risposte delle scuole superiori ammontano un 45,2 per cento. Meno interessata sembra invece la scuola dell'infanzia con un 9,4 per cento di risposte. Il nord Italia sembra infine sentire maggiormente l'argomento con un 46,8 per cento di risposte al sondaggio. Grazie a tutti.